Lei sei pesante come controbatto? Allora te lo dicono quando sei stato pesante nella comunicazione scrivi tanto o ti lamenti in maniera sbagliata cioè lamentarsi è giusto sono un capricorno mi lamento specie quando c'è un qualcosa per cui lamentarsi ma devi capire che c'è modo e modo di lamentarsi c'è una comunicazione adeguata per lamentarmi quello che devi scrivere questo non è il discorso di essere pesante quindi sto dicendo non è questo il discorso non sono pesante e che è che a te non ti piace chi ti dice la verità punto esclamativo in genere loro te lo dicono appunto a fronte di una tua di un tuo messaggio dove le dici un qualcosa che è scomodo quindi gliela metto sotto questa forma cioè non è che io sono pesante che sei tu quindi ribalto che sei tu non è che sono io che sei tu cosa che diciamo non sei abituata a chi ti dice la verità però va bene dai sono pesante posso anche aggiungerlo della serie ti do anche ragione ma non è così questo le permette di fare diciamo le permette di ragionare su questo e di ribaltare i ruoli grazie a tutti Grazie per la visione